Presidente Bolami, lo slogan della campagna abbonamenti è Abboniamoci e c'è una C in rosso perché è quella la lettera che interessa Franco Bolami cioè arrivare in quella categoria, la Serie C con la Vastese. Sicuramente è il nostro obiettivo perché uno che fa tanti sacrifici dall'inizio portare la squadra in Serie C penso che è il minimo. Come ho detto ci vuole un po' di pazienza, ci vuole organizzazione questa è una grande risposta oggi, ci siamo mossi bene e speriamo di portare questa Vastese in Serie C dov'è essere sempre stata. Un progetto rinnovato, è cambiato l'allenatore, c'è Ottavio Palladini una scelta fatta praticamente già ad inizio estate perché evidentemente ci credevate davvero sul tecnico. Sì, abbiamo fatto un anno con la Vitto, abbiamo riprovato a fare il secondo anno giusto per capire un po' il campionato. Con il mister c'era già una chiacchierata l'anno scorso, l'ho dovuto aspettare però quest'anno mi ha chiamato e mi ha detto sono convinto di fare bene a Vasto e volevo venire a Vasto. Io ho detto vieni subito, facciamo subito un bel programma, iniziamoci a muoverci prima e abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro sia lui che di tre sportivo. Posso chiederle come si aspetta il prossimo campionato? Mi spiego, le abruzzesi è vero che saranno più attrezzate rispetto a quelle che è stato l'anno scorso e poi l'incognita inserimento di big che scendono dalla D? Ma il campionato è sempre più difficile, come vi ho sempre detto, sempre le marchigiane erano sempre i primi posti io penso che quest'anno saremo noi abruzzese da giocarci, noi a Vizzano, Frangavilla, Pinillo. È un onore avere queste quattro squadre sempre al top, siamo contenti e abbiamo voluto dire che l'Abruzzo si fa voler sentire anche in mezzo a queste categorie che è una selettiva molto importante per me.